Liberare le persone con dipendenza da eroina dallo stigma sociale che le condanna l'emarginazione, trattando i tossicodipendenti che controllano la propria addiction come tutti gli altri malati cronici, consentendo loro di rivolgersi direttamente al medico di famiglia e alla farmacia aperta al pubblico per seguire il proprio percorso di cura. Nuovi farmaci e nuovi tossicodipendenti, spesso laureati con un lavoro stabile e una famiglia solida, suggeriscono questo rivoluzionario mutamento di sistema anche in Italia. Ne abbiamo parlato in ottica comparatistica con la professoressa Marta Torres, neurologa spagnola, esperta di dipendenza da sostanze, che abbiamo intervistato in occasione della Global Addiction Conference che si è tenuta a Pisa nel maggio scorso. Professoressa, una sua opinione sulla possibilità di attualizzare la classificazione delle dipendenze? Credo che sia una ottima possibilità che darà buone prospettive per il futuro. Per quanto riguarda la realtà spagnola, lei come giudica il sistema di trattamento delle dipendenze in Spagna? Il trattamento delle dipendenze da droga in Spagna, come nella maggior parte dei paesi europei, è un sistema con una rete differente da quella della salute mentale e in generale funziona abbastanza bene. Il problema però è che sono due reti che funzionano in modo parallelo, mentre l'ideale sarebbe avere una sola rete per il trattamento di tutti i disordini psichiatrici e mentali che includano anche le dipendenze. Siccome questo è un problema anche italiano, sentito anche in Italia, ci spiega meglio qual è la sua idea di integrazione all'interno di un unico percorso di cura? In che senso? Penso che l'ideale sia che il paziente possa recarsi in un solo centro. Se il paziente ha un problema di salute mentale diverso dalla dipendenza e voglio chiarire che la dipendenza è un problema di salute mentale, lo capirei. Però molti hanno due patologie e non dovrebbero recarsi in due centri diversi. Il risultato è che alla fine rimangono senza trattamento. Se va in un centro di salute mentale non gli trattano la dipendenza e se si reca in un centro per le dipendenze non viene trattato per i suoi problemi di salute mentale. Quindi mi sembra un sistema inefficiente. Questo nuovo assetto delle cure potrebbe anche favorire il recupero dei pazienti con dipendenze? Sì, chiaramente questo sistema faciliterà il loro riconoscimento come pazienti e di conseguenza si potrebbe fare con loro ciò che si fa normalmente con i pazienti con problemi mentali, cioè favorire nel recupero. E quale potrebbe essere, professoressa, l'utilizzo dei nuovi farmaci a base di buprenorfina e naloxone all'interno di questo nuovo assetto di cure? Io credo che sia un farmaco con grandi possibilità terapeutiche, proprio perché non è stigmatizzato come altri farmaci e presenta un uso più facile, soprattutto da parte degli psichiatri generalisti. E penso che possa essere anche un modo per destigmatizzare il trattamento delle dipendenze da opiacei. Grazie. 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 Grazie.